Si sente? Si? Benvenuti ad Isola Vicentina in Villa Cerchiari. Io sono, per chi non mi conosce, Francesco Gonzo, sindaco di Isola Vicentina. Vi do il benvenuto anche a nome dell'assessore della cultura Francesco Castagna. Oggi giornata molto particolare che è inserita all'interno della quarta edizione del profumo di carta, di questa rassegna culturale che da quattro anni appunto proponiamo alla cittadinanza di Isola Vicentina ma non solo, che ci porta a riprendere quelle che sono le sensazioni che il profumo della carta ci rievocano nel nostro ambito sentimentale ma soprattutto razionale del fatto di toccare la carta, di ascoltarne il rumore, di guardarla e di sentirne anche il profumo. Ed oggi è una giornata molto particolare perché abbiamo degli ospiti importanti. La seconda giornata di profumo di carta dedicata alla casa editrice Ronzani di Tore, qui rappresentata dalle eminenze di Beppe Cante e di Claudio Rizzato e di tanti amici. e l'incontro di oggi è molto particolare perché della carta ci fa sentire, ci farà vedere quelle che sono le immagini che vengono impresse sulla carta. Ed è un'emozione anche particolare perché penso sia la prima volta che è ospite in questa forma di Isola Vicentina, maestro Beppe De Marzi, grande amico di Placido Barbieri che oggi appunto evochiamo. Saluto e ringrazio per la presenza dei figli che dirò in ordine sparso, non di nascita, Elena, Fernanda, Silvio e Claudio e ringrazio anche le loro famiglie per essere qui insomma presenti. Profumo di carta si accompagna ogni anno a una mostra pittorica, quella che vedete la vostra destra è del maestro Pipi delle Molle che abbiamo inaugurato la domenica scorsa, maestro elementare appunto ma anche poi pittore. La mostra è curata da Giovanna Grossato, maestro venerando a età di 97 anni il prossimo mese, credevamo fosse giusto a rendergli omaggio con questa mostra. Io lascio la parola ora a Elena Barbieri, a Giovanna Grossato e a Beppe De Marzi. Prego. Che invito già ad accomodarsi tutti, anche Giovanna, prego. Lascio la parola prima però a Beppe Cantele che vi dice due note sul Ronzani Editore, sulla collaborazione lunghissima con Profumo di carta. Grazie. Grazie signor sindaco, grazie a tutti voi presenti. Oramai lunghissima, sì perché delle quattro edizioni questa è la terza nella quale noi di Ronzani Editore presentiamo le nostre novità autunnali. L'anno scorso abbiamo presentato il diario di Neripozza in una prima serata e in una seconda serata la nuova edizione delle storie della pellagra di Pino Sbalchiero, una riedizione nata da un'idea, da un'intuizione di Claudio Rizzato, nostro presidente, poi accolta dal comune di Isola Vicentina che ha patrocinato, sponsorizzato e voluto insieme a noi quell'edizione. Quest'anno, proprio ieri sera, abbiamo presentato qui in questa stessa sala un libro di Nicola Decilia che si intitola Geografie di Comisso e in cui l'autore ripercorre i luoghi comissiani ed è un libro che abbiamo dedicato appunto al grande scrittore veneto a 50 anni dalla della sua scomparsa. Oggi è la volta di quest'altro libro che io ritengo un libro straordinario. Ecco, quindi grazie signor sindaco, grazie Isola Vicentina, grazie a questa rassegna Profumo di Carta e a quello che impropriamente chiamo il direttore ma che ne è l'animatore che è il dottore Ettore Dalsanto del comune di Isola Vicentina. Siamo sempre felici di venire e di partecipare, di proporre le nostre cose perché questa è una rassegna veramente ben concepita ed è un'idea molto importante che proprio, come dire, si combina alla perfezione con quello che è il nostro progetto culturale. Perché la Ronzani Editore io non la chiamo e non l'ho mai chiamata casa editrice, l'ho sempre chiamata progetto culturale che si esprime mediante i libri e in questo progetto culturale abbiamo incontrato in tre anni e mezzo decine di persone, mi è sempre gradito incontrare il pubblico per spiegare, per far conoscere questo progetto, per dire tre numeri in tre anni e mezzo, 56 titoli pubblicati, una redazione che oramai si compone di 13 persone, una società che abbiamo costituito e che hanno avuto 17 soci, tra persone che amano la cultura e che hanno investito un po' dei loro soldini per cercare di far sviluppare il progetto, centinaia, centinaia di articoli, recensioni, incontri, fiere nazionali e internazionali in Italia e anche all'estero. Ma stasera siamo qui per un libro veramente particolare, quel giorno quando Giovanna e Elena, scusate le chiamo per nome per la familiarità che ho acquisito con loro, ma sono la professoressa Giovanna Grossato che è la curatrice del volume, la professoressa Elena Barbieri che è la figlia di Placido Barbieri, il fotografo che oggi ricordiamo con questo libro. Quando loro, dicevo, sono venute in casa editrice, chiamiamola così, è in realtà il mio studio nel quale abbiamo adibito alcune stanze, cercando di stare un po' strettini, a lavorare per fare i libri. Ecco, quando loro sono venute ed Elena aveva sotto braccio un fascio di fogli e ha cominciato a sfoderarli sul tavolo della nostra sala riunioni, io ho avuto un'emozione fortissima, ma proprio fortissima. Avevo raramente visto, gliel'ho sempre detto, non è stata piageria, tanto che oggi siamo qua, noi in veste di editori di questo libro. Ho visto delle cose meravigliose, delle foto meravigliose e ho detto, Dio Dio, speriamo di riuscire a spiegare bene quanto noi amiamo i libri e cosa potremmo farne di queste foto. Speriamo di riuscire a spiegarlo bene alla famiglia Barbieri che ci proponeva queste cose per far sì che loro accettassero la nostra proposta, la nostra idea culturale e ci affidassero, così poi come ci hanno affidato la cura di questo volume, per la quale devo ringraziare oltre a Elena e a Giovanna che hanno lavorato tantissimo per mettere insieme il materiale, per curarlo e per dotarlo dei testi che lo accompagnano, devo ringraziare tantissimo anche Elsa Zaupa che è la nostra grafica, la grafica della Ronzani Editore che ha lavorato al loro fianco recependo poi i loro suggerimenti e per fare un libro che io ritengo, lo so che non dovrei dirlo io, ma bellissimo, davvero bellissimo. Questa emozione forte si è ripetuta poi quando abbiamo avuto il volume in mano, fresco fresco perché a Isola Vicentina a profumo di carta vogliono solo le primizie straordinarie. Il libro è arrivato in casa editrice due giorni fa e siamo qua appunto a presentarlo. Ecco, questo testo poi è dotato di uno scritto di una persona alla quale io, e lui lo sa, voglio tanto bene che è Bepi De Marzi e io caro maestro ti ringrazio per aver accettato l'invito di venire a presentare questo libro di un tuo amico, ecco di un tuo amico e per aver dotato questo libro di quella quarta di copertina bellissima poetica che è ciò a cui ci hai abituato. Ecco, ma questa sera io vorrei davvero che, come dire, sentire qualche cosa di più oltre alle foto che ho visto in questi mesi di lavorazione insomma, ecco. Vorrei proprio conoscere di più Placido Barbieri, vorrei averlo avuto come zio, vorrei essere stato insieme a lui quando faceva certe foto insomma, perché certe foto sono davvero straordinarie. Quindi passo senza indugio la parola a chi ce lo racconterà bene anche al di fuori dell'ambito della fotografia, perché credo che questo volume possa aiutarci assieme alle parole di chi ascolteremo oggi a scoprire un personaggio. Perché? E poi chiudo. Molte di queste foto io le avevo già viste. Sono certo che anche voi le avrete già viste. Veramente ci sono decine di scatti immemorabili che abbiamo già visto ovunque, ma non sapevamo che erano di Placido Barbieri. Ecco, restituire quelle foto al loro straordinario autore significa proprio ricordarlo e conoscere qualche cosa di più di una figura che non ho nessun timore a definire straordinaria. Ecco, è il secondo volume di questa collana. Col primo volume della collana abbiamo appena vinto il premio Gambrinus, un libro di fotografia molto bello, scatti meravigliosi di Paolo Lorenzon sulle terre del Piave. Ecco, Paolo Lorenzon è uno straordinario fotografo. Placido Barbieri, secondo volume di questa collana, è un artista. Applausi Comincio la serie a dire delle cose che mi sono appuntate questa mattina pensando a Allora, 1916-2013, quasi un secolo vissuto con ironia, passione, curiosità, amicicchia. E con gli amici e i fratelli ci siamo ritrovati nel novembre del 2016 per festeggiare il centenario con il solito e storico dolce Monte Bianco. Perché siamo qui, dicevo, perché il bussate vi sarà aperto è sempre stata una frase importante per Placido e Mariuccia. Perché l'accoglienza che hanno reso concreta meritava un ricordo, un racconto. Il racconto è lentamente quindi partito con la lettura e la scelta dei documenti catalogati con ordine, con l'analisi dell'archivio fotografico donato dieci anni fa alla Biblioteca Bertogliana di Vicenza e la ricerca di foto del bagaglio nostro familiare per rendere il percorso sincero e completo. Un materiale vastissimo che poi, un poco alla volta, è stato incanalato nei grandi temi e passioni, artisti e volti, montagne e paesaggio, benecchia e laguna. L'andamento lento del percorso è ben documentato dalle ricorrenti mail del titolo «Cara Giovanna, ho cercato di raccontare, è solo una bozza, vorrei poter inviartela. Cara Elena, manda pure che poi ci vediamo e ne ripariamo». E quindi il mio contatto continuo con Giovanna Grossato, fondamentale. Un epistolario lungo, intervallato, con gli incontri dal vivo con Andrea, con Luciano e con Giorgio Sala, amico di antica data e grande estimatore dell'avventura. E poi, lo scorso novembre, l'incontro con Beppe Cantele, con il suo entusiasmo e la proposta, finalmente si chiarisce e diventa realtà. Ho cercato, io, di raccontare la storia di mio padre, della sua forza d'animo in momenti complicati, della sua passione nei confronti dell'arte fotografica, del suo desiderio di raccontare e di comunicare questo suo modo di vedere e di sentire. Spero di esserci riuscita in questo libro. Ringraziamenti doverosi ai fratelli e alla sorella, a Giovanna Grossato che mi ha sostenuto sempre, a Elsa Zaupa che ha impaginato in modo creativo e personale e naturalmente a mio marito che si è impegnato ad ascoltarmi intervenendo con suggerimenti preziosi e puntuali. Grazie. Sarò breve, perché in effetti mi sembra strano Elena di vederla qui senza le sue borse, dove aveva catalogato da anni, da sempre, da una vita, i documenti del papà e dal quale poi è scaturito un, come dire, un percorso, una narrazione che era qualcosa davvero di diverso, di parallelo, ma di molto nuovo anche per me che Barbieri lo conoscevo da anni e del quale avevo curato numerose mostre nel corso della nostra conoscenza che poi è diventata amicizia perché naturalmente era impossibile conoscerlo ed entrare nel suo mondo senza poi diventare amici per la pelle. E certamente c'era in questa relazione anche, in questa frequentazione di anni, poi un approfondimento che era umano, che era di grande simpatia, che era anche di narrazioni ulteriori del come certe foto erano state scattate della storia che era sottesa a queste immagini. Però mai avrei pensato di poter raggiungere così tanto aspetto umano nel ripercorrere insieme a Elena, naturalmente ai fratelli, ma soprattutto con Elena che era fisicamente anche la portatrice di tutte queste memorie. E da questo contatto che è durato alla fine di C-2016 io non avevo perso la memoria di quando aveva avuto inizio questa storia. Dunque sono due anni in cui intorno alla figura di suo padre abbiamo scavato, ci siamo scambiate non solo immagini ma anche dei giudizi estetici, delle narrazioni soprattutto che venivano da lei e che mi hanno straordinariamente arricchito e reso ancora più plastica la figura di un amico e di un artista. Per cui alla fine mi ritrovo a dire che Placido Barbieri è come se non se ne fosse andato mai. Adesso questo libro pone una pietra migliare in quello che è la sua vita d'artista così esplicita. Non vale la pena che io dica una parola in più sul risultato estetico di questo lavoro. Ma è anche una specie di monografia della sua vita, di quello che lui è stato non solo come artista ma come uomo, come amico, come padre, come un grande, lo definivo un patriarca nel senso migliore del termine nella cui famiglia ha incluso nel corso degli anni della sua vita un sacco di altre persone che sono rimaste poi sedotte e conquistate da lui e da quello che lui rappresentava proprio in termini umani e familiari. Quindi ecco, io mi auguro che sfogliare e leggere questo libro le immagini certamente parlano per conto loro le didascalie offrono un aggancio, potremmo dire, storico alla narrazione delle immagini i testi, i testi soprattutto degli amici, dei familiari ma anche degli amici che abbiamo collocato nei documenti proprio mettono in evidenza la forza del rapporto umano che non può non travasarsi anche nelle immagini e quindi è un libro di fotografia, è una monografia è un racconto di tante vite messe insieme perché anche artisti che lui ha fotografato in ritratti ma anche nella loro operatività mi viene in mente Remigio Barbaro per esempio che sempre dovevamo andare a trovare a Murano con Placido e poi alla fine non siamo riusciti a fare perché ci ha lasciato prima ma ecco, si vede dalle dediche, dalle lettere tutto questo tessuto ricchissimo che lui ha saputo creare nella sua lunga vita da artista e di uomo. è immancabile percorrere i ricordi con degli aneddoti è immancabile io non riesco a star seduto perché non so come mettere le gambe perché se le mettessi come quello che in televisione allunga le gambe alla gente che ha un nome, il signor, lo conoscete, Panzironi che lo chiamano anche gamba larga perché ha sempre le gambe larghe ed è immorale io non so come mettermi non sono capace di parlare seduto perciò permettetemi di rimanere in piedi si sente bene abbastanza c'era un amico particolare di Placido che nel libro non è tanto nominato però ci sono tre foto Carlo Gemigliani Carlo Gemigliani di mestiere faceva il grafico e perciò penso che l'avvocato Cantele che bello questo cognome questo cognome Cimbro, Cantele non dite Cantele l'avvocato Cantele che produce questi libri e che bello questo titolo questo titolo profumo di carta non siamo più abituati alla carta ha generato anche dei neologismi osceni come il cartaceo che sa veramente di gabinetto ora penso a questo grande amico di Placido che di mestiere faceva il grafico pubblicitario che produceva immagini nella carta soprattutto Carlo Gemigliani romagnolo però trapiantato a Vicenza che è stato, oso dire il più grande estimatore di Placido Barbieri Placido aveva degli amici ne è rimasto uno il sindaco Sala io lo chiamo ancora sindaco Sala Giorgio Sala illuminatissimo Giorgio Sala era fraternamente amico è stato ricordato dalla figlia Elena adesso e insieme aveva degli amici sparsi Placido uno a Roma Gastone Tosato maestro di musica direttore anche del coro polifonico romano dove io ho imparato anche a fare polifonia e ad accompagnare con l'organo perché Placido mi mandava dal suo amico a Roma in via Giulia poi era amico amico devotissimo di un sacerdote Don Fabiano dal Cengio che trovate in una foto un po' mossa bellissima in movimento nel cuore del libro Don Fabiano non era parroco era rettore anzi meno che rettore era un confinato un esiliato era San Felice il gruppo di San Felice e quando suo fratello ha commesso una cosa orrenda ha ucciso insieme ad altri l'avvocato tricarico il vescovo Zinato ha punito suo fratello prete e lo ha mandato fra Arzignano e Ronca in una chiesa inesistente a Santa Margherita dove Don Fabiano vivace perché erano un gruppo di amici vivacissimi e creativi è riuscito a trasformare quel luogo in rettoria poi è diventata addirittura parrocchia ha costruito una chiesa moderna un uomo dinamico e Placido andava su spesso con la sua bella famiglia e c'è una foto dove c'è la famiglia i figli con Don Fabiano sulla porta della chiesetta e poi la foto sempre di Don Fabiano cercate dentro il libro ma cercate con amore perché Carlo Geminiani diceva di Placido è l'uomo delle tre A amore sempre perché ha fatto sempre con immenso amore arte arte aveva l'arte nessuno proprio si muoveva sempre con arte affettuosamente era affabile e la terza A era l'arguzia la prima volta che ho parlato con Placido e hanno messo anche nel libro una mia lettera dove gli do del lei con molta riverenza la prima volta ero imbarazzatissimo perché mi ha trattato con umorismo con arguzia con quella sua voce di tono medio basso dolce mai gridata pacata quel parlare lento e mi ha affrontato mettendomi subito nella condizione di essere tranquillo anche negli ultimi tempi se qualcuno andava a trovarlo a casa era in carrozzella sapete che adesso si arriva come all'entrata prima ciao come stai bene vero e se uno non sta bene cosa fa e placido barbieri non rispondeva subito e allora l'altro insisteva o l'altra oh placido come va bene vero e non è vero e lui diceva me fasso peccà vero me fasso peccà te trovo ben peggio che peggio dire te trovo ben a uno che è lì in prestito nella vita negli ultimi sospiri eppure siamo così leggeri siamo sbadati siamo sbandati te trovo ben la prima volta mi ha detto ah guarda ciò è il musicista nessuno mai mi aveva chiamato musicista ero ancora mezzo ragazzo mia mamma mi chiamava Beppino mi è piaciuto vedere Pipi nessuno mai mi ha chiamato Pipi sapete che Trump ha chiamato Giuseppe il nostro conte perché fanno confusione con le vocali anche ecco pensate pensate quest'uomo che io avevo subito ammirato nelle sue realizzazioni che mi dice oh guarda ciò è il musicista e ha riso sorrideva sempre e poi mi ha mostrato alcune cose sue e mentre io sfogliavo mi ha detto Pimpianelo perché noi siamo abituati a passare le pagine in fretta invece no mi ha insegnato a guardare e con quella sua mano affettuosa diceva ecco guarda questo guarda questo vedito qua mi ha insegnato a guardare le foto che nessuno dica foto adesso dicono foto le foto con tranquillità come bisognerebbe guardare quelle stranissime e affascinanti immagini con tranquillità senza fretta sfogliatelo senza fretta questo libro pagina per pagina sostate nell'incanto della neve ci sono anche i miei canti qualche canto e con parole di Carlo Geminiani l'ho fatto con le parole di Carlo dopo aver visto una foto di Placido ed è Alpin a Venezia perché ci sono tante immagini di Venezia poi c'è un'altra foto che si chiama non l'hanno scritto loro per bontà e anche per non rivelare tutto quello che ci sarebbe da rivelare la cota Carlo quando ha visto quell'immagine di Placido sono due che si parlano vicini addossati a un muro è stata fatta a Chioggia e la cota Carlo ha scritto questo testo se te ricordi il freddo dest'inverno te stavi sotto la mecovertela basi da mati cofai i bisati bella mia bella sapete che i bisati vengono messi uno di testa e uno di piedi ecco perciò era già una posizione peccaminosa qua ho il maestro Comparin che canta tante delle mie cose è stato il primo a portarle anche in versioni per coro misto e ricordo Placido Alpino perché ha fatto anche l'Alpino che mi ha detto ciò ti fai cantare le torobe anche dalle donne qua c'è anche sua moglie soprano bravissima e dico sì perché nella storia popolare e della fede sono sempre state le donne le prime a cantare e lui diceva eh sì a inasiare il canto chi è che usa più inasiare il canto a cominciare il canto a parare sul canto inasiare andare avanti con il canto aveva anche questi preziosismi veneti che aveva vissuto a San Felice con Giorgio Sala col maestro Tosato poi andato a Roma con Don Fabiano Dal Cengio amatissimo e sono andato su quando c'è stata la festa di matrimonio sono andato a Santa Margherita e c'era Elena che penso che la vedete giovanissima la sorella i bambini ed era una famiglia felice e ricordo ancora ciò che ha detto Don Fabiano che a un certo momento si è messo a parlare in dialetto ma quel dialetto non il dialetto falso che vorrebbero i venetisti sapete che sono quelli che vorrebbero che studiassimo il dialetto a scuola portarlo a scuola e sono proprio quelli che poi vanno a casa e parlano in italiano col gatto ecco perché non credono nel dialetto però lo usano a fini politici e ricordo i preziosismi del dialetto di Don Fabiano gli interventi preziosissimi di Placido in Asiare io passavo e mi ha detto ma te stai rumando massa Roma chi è che dice più Roma io ho imparato Roma che non sapevo cosa volesse dire che volere anche rovistare la prima volta che ho accompagnato la Marisetta a casa dopo Fioretto e ho detto posso toccarte le tette e lei ha detto Roma Roma ecco questo è il dialetto che abbiamo dimenticato ora con Placido era tutto un rumare lo posso dire nella bontà nell'arte nell'arguzia le tre a amore e affetto arte e arguzia come stetto ben vero a me faso peccato questo era Placido specialmente negli ultimi tempi e non raccontava mai per esempio della Libia ma ogni tanto arrivava dolcissima donna Mariuccia la chiamavamo noi amici più cari la mamma che chiamava Placido Plà aveva una voce squillante non diceva Plà diceva Plà quando Plà era in camera oscura a fare i suoi lavori lei in punta di piedi idealmente andava di vicino e respirava e lui sentiva che c'era e poi andava via e poi lo chiamava magari per un caffè e quando eravamo in giro per qualche camminata in montagna insieme sembrava la voce di un uccello di passo sembrava un eco Plà squillante bellissima protettiva se vedeva Placido un poco assorto diceva uno dei suoi Plà magari ripetuto Plà Plà e lui improvvisamente si ravvivava perché inseguiva i suoi pensieri e prima di fare un ritratto ed è scritto giusto nel libro con molta attenzione parlava parlava per mettere il soggetto chiamiamolo così nella posizione ideale metteva la gente nell'agio giusto non come adesso che mettono in posa io in questi giorni per quello che ho fatto per quello che sto facendo mi telefonano fanno le interviste non vi dico è un incubo e mi hanno detto cosa pensa di questo Papa e io ho detto ma io amo immensamente questo Papa e provo una immensa pena per lui quando lo vedo traballante seguito dalla sua scorta di cardinali nulla facenti dietro pomposi vanitosi e chissà perché sono lì e passa nel cuore della basilica di San Pietro una volta vedevamo le suore eccitate che si inginocchiavano la gente che si faceva il seno della croce adesso tutti gli girano il sedere e fanno selfie si vedono centinaia di braccia in alto di fotografi fotografi che poi una volta fatta la foto la perdono e cominciano a così provate a farvi mostrare una foto da quelli che usano quegli osceni marchigegni aspetta che lo catto sì sì lo catto lo catto e non lo catano mai possono rumare tutto il giorno ma non lo catano ci vorrebbe che saprebbe saprebbe dirci dov'è ecco placido io lo sento nel cuore lo sento nella memoria lo sento nell'affetto e nella riconoscenza quando sono andato col mio coro a cantare per la prima volta a Milano al circolo della stampa è venuto e ha fatto delle foto senza intervenire non era quello che si mette davanti che va a scattare oppure io ho suonato 700 milioni di matrimoni mi vergogno però li ho suonati e ricordate che venivano i fotografi con l'ombrellino pum pum così adesso adesso al matrimonio ci sono 700 milioni di selfie cioè l'arte del fotografo non c'è più è una figura non superata offesa umiliata dimenticata non superata dimenticata e tutti si sentono spaventosamente artisti mi diceva Armando Olmi fotografato tanto anche da Placido insieme a Rigoni Stern sapete che avevano le case una qua una la a distanza di 50 metri mi diceva Armando Olmi che riceveva degli spezzoni di registrazioni fatti col telefonino per avere un parere si sentivano registi perché magari avevano filmato il figlio in spiaggia al mare ecco e lo mandavano Armando Olmi pensate e Placido ogni tanto doveva dare qualche giudizio per le foto che gli mostravano e io ricordo sono da e mi ha domandato si si godito se poi bere un bicicletto e si scappava ecco perché non resisteva non resisteva davanti al brutto perché Placido era la bellezza sempre era la verità nei ritratti ha fotografato le opere non tutte di Nereo Quagliato se ne è andato di sua volontà lungo la fascia berica Elena sa dove io ho tanta voglia di andare a vedere ma quando mi avvio mi fermo perché l'ho ammirato potrei dire che naturalmente nel modo giusto l'ho amato immensamente nelle sue opere Nereo Quagliato che se ne è andato proprio perché è stato offeso perché hanno messo il suo Neri Pozza fotografato da Placido in modo stupendo Neri era fiero di questo ritratto l'hanno messo a Ponte San Paolo dove la gente si ferma a fare pipì e lì fanno la pipì a Neri Pozza immaginate e dopo due giorni ha deciso basta non mi vogliono non hanno capito niente io ricordo il suo intervento veemente disperato a Ponte San Paolo a Vicenza Neri Pozza era incantato dal lavoro di Placido e soprattutto i grandi artisti erano attratti dal suo modo di mettere insieme la pensosità e la felicità Nero Quagliato aveva fatto un catalogo con le foto di Placido e lo ha fatto girare anche in Europa e gli è arrivata una commissione dalla famiglia Hohenzollern in Baviera per andare a fare i busti i ritratti di tutta la famiglia è partito immaginate Nero immenso con dei sacchi di terra perché doveva naturalmente prima di arrivare al bronzo doveva modellare le forme e su ha conosciuto la grande attrice Senta Berger non c'è più bella con quel viso un po' teutonico però dolcissima e ha chiesto a Nero chi è che ha fatto queste stupende foto e lui ha detto chi e ha detto poi lo ha raccontato Nero a noi subito quando è tornato ha detto mi piacerebbe venire a Vicenza per farmi fotografare da questo artista ho detto che si sciolgono gli aneddoti i ricordi come posso io trascurare per esempio alcune cose che ha fatto per me anche per il mio coro quando ha fatto abbiamo fatto un album con i primi canti Elena è diventata Iosca Iosca poi altre immagini il signore delle cime vedrete c'è un ragazzo con gli sci che lascia dei segni e l'abbiamo usato per il signore delle cime e lascialo andare per le tue montagne e poi la terra corrugata per le voci di Nikolaevka trovate dentro tante immagini che giustamente chi ha realizzato il libro non ha fatto riferimento ai titoli che hanno suscitato oppure ai titoli che sono stati messi dopo ma sono foto che hanno ispirato anche poesie Carlo Geminiani si è lasciato andare a un ricordo vedendo una poesia di Placido perciò ha rovesciato la situazione noi potremmo dire che una poesia ha generato un'immagine invece no lì l'immagine ha generato la poesia questa era la grande arte di Placido vedrete la faccia di Scappin Scappin rubicondo bellissimo dopo quella foto la moglie di Scappin ha detto ti si massa grasso e gli ha fatto fare la dieta e Scappin ha perso il buon umore non è più stato Virgilio lei continuava a chiamarlo Virgil ha perso il buon umore e Placido glielo diceva ciò non ti si più ti eh e l'altro e lei ma moglie perché ti vedi che magro che ti si ti si più ti questa sincerità l'uomo che sapeva guardare che sapeva trasfigurare che sapeva accarezzare con lo sguardo con una parola con la parola giusta in dialetto e poi inasiare no rumare massa ecco mi ha dato anche delle lezioni di ritmica lui si muoveva sempre tranquillamente però quando camminava nelle camminate in montagna o in altri luoghi aveva quel ritmo pacato di chi non si ferma mai si fermava un poco aveva sempre la sua macchina appesa ma che non si vedeva chi è che vede più una macchina fotografica adesso bisognerebbe fare il museo e portare i bambini vedete voi che andate a letto con il cuscino con quella roba lì questa è una macchina fotografica e c'era un uomo pieno di fantasia di arte di amicizia di bontà generosissimo che non domandava mai niente a nessuno io non gli ho mai pagato una foto me ne ha fatte tantissime io non so come vivesse era così non vendeva lui donava donava l'immagine donava la poesia donava il ritmo della vita il respiro la pacatezza rassicurava e quando pareva quasi in difficoltà arrivava la mariuccia col suo squillo col suo cinguettare la felicità una famiglia esemplare meravigliosa incantevole un uomo che ci ha donato la speranza veneta vicentina è stato perfino in Libia qui è raccontato c'è una parte biografica striminzita e questa è un'altra delle intelligentissime soluzioni di questo libro sfogliatelo lentamente fermatevi qualche minuto per ogni immagine e dopo tornate indietro ah mi ricordo quella pagina lì sì la didascalia conta poco però inventatela voi prendete questo libro e mettete delle annotazioni ritrovatelo adesso che forse verrà l'inverno cercate la neve cercate la montagna cercate le corrugazioni della roccia cercate le facce dei poveri ci sono le facce dei poveri che diventano angeli di splendore cercate i vicentini Carlo Geminiani lo trovate perché ha la mano così ed è stato l'unico vago dissidio tra me e Placido perché Geminiani è così pensoso e si vede l'anello da sposo io che proprio dalla nascita se vedo da vicino un anello posso anche svenire soffro di monilofobia terribile terrificante mia mamma per mettermi sui panesei sapete cosa sono i panesei si doveva togliere la fede inuziale altrimenti urlavo è stato mi ha condizionato la vita ho detto a Placido se può daria mia a tirarvi via quell'anellasso lì e dice perché perché non è che faccia del bene all'immagine e lui mi ha detto ciò Beppe non si tocca niente cioè lui le foto foto non foto le foto non le ritoccava le ritoccava prima prima di scattare e non era quello che dopo aver fatto la foto guardava se era riuscita bene aspetta che infiamo un'altra come adesso i selfie un altro aspetta che facciamo un mesio vien qua che te fai i selfie il papa che passa e tutti gli girano i glutei e lui benedice niente e dopo si portano a casa l'immagine del papa come su me questo sì sono aberrazioni come possiamo difenderci sfogliando la bellezza l'armonia la verità delle facce dei luoghi il candore della neve i fiori gli amici che non ci sono più cercateli è Vicenza è il Veneto è la bellezza del creato grazie a tutti 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 l'empatia 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 siamo arrivati all'empatia siamo arrivati perfino alla resilienza provate a andare a dire a uno che viene dalle colline beriche o dalla me valle da durlo ciò come steto a resilienza è il più tosto ecco quando placido diceva me fasso pecca e diceva bisogneria che a me aggiornasse gli avevano messo ma era bravo un assistente vero un badanto un badanto si direbbe come dicono sindaca sindaco manco male che è maschio se no lo chiamerebbero sindaca ecco questo badanto che era simpatico che sapeva anche eclissarsi nei momenti in cui capiva che placido aveva bisogno di confidarsi si nascondeva spariva delicatissimo ecco e io una volta ho spiegato a placido che era arrivato più tosto cosa è che si arriva più tosto ti vai al ristorante e ti dice abbiamo la pasta asciutta più tosto che il spaghetti più tosto che la minestra più tosto che il melone così più tosto vuol dire anche ma adesso è arrivato più tosto e allora lui mi ha detto ecco la sapienza te se che gli altri a Vicenza dicevamo pi tosto di pi tosto se meglio pi tosto se qualcuno vuole fare qualche domanda ho come dire assunto come dire un ruolo improprio però ecco se qualcuno vuole chiedere qualche cosa cioè la verità no ma la verità la verità se è che staresimo qua tutto il pomeriggio ascoltarti capito no ma è la verità e quindi ecco nessuno vuole fare professore chieda a lei qualche cosa al nostro beppi e in quell'occasione la festa più bella è che ha avuto beppi che si è venuto a raccontare come sa lui aveva il coro della sigilla che cantava i canzoni dei beppi ed è stata una cosa di cui lui quando andavo a trovarlo mi diceva seto la roba più bea che te potevi farmi ecco ma qui c'è anche l'autore della mostra Piero Peretti che desidero anche presentare mi inoltre penso sempre all'arguzia che ti accennavi beppi le placide soprattutto nella sua foto prima si è passata la foto le do panze la foto i do busi ecco quando ti te guardi quelle cose lì coni immediatamente l'ironia sottile ma amorevole come dire non era mai cattivo era sempre amorevole dolce eccetera però ogni tanto qualcosa che ammetteva insomma ecco io lo ricordo per l'infinito piacere che ho avuto quando andavo a trovarlo e ogni tanto mi regalava qualche pezzo di opera perché lui cantava e cantava anche una bella voce e ogni tanto citava Dante cioè la cosa che come dire poesia l'opera e poi veramente è quella che Beppi diceva la sua arguzia di cui abbiamo tanto bisogno grazie diceva giustamente Beppi prima i titoli ci sono delle foto che uno scatto vale il modesto prezzo del libro e che sono veramente straordinarie e meravigliose alcune di queste sono state usate per illustrare i canti dei corraioli di Beppi De Marzi diceva giustamente Beppi che non sono stati usati quei nomi e quei titoli sarebbe stato troppo facile no l'operazione da un punto di vista proprio bibliografico editoriale è stata quella di recuperare i titoli d'autore e ora che ho sentito questo ritratto bellissimo appassionato di Beppi De Marzi ma preciso puntuale una testimonianza viva e vera capisco di più anche quei titoli ci sono dei titoli straordinari quelle due pance che avete visto la fotografia si intitola la stagione del sole profili queste domande poteva chiamarla qualsiasi altra cosa profili bellissimo quell'immagine che per noi è del signore delle cime ecco si intitola verso la luce i titoli quando ci sono e le date quando ci sono sono tutti autoriali sono tutti segno e testimonianza di questa arguzia di questa ironia dell'autore che forse guardava si guardava e poi decideva che titolo dare a queste foto ci sono delle foto bellissime ne cito un'altra si vedono queste due queste due montagne innevate con una casetta in cima anch'essa innevata sulla destra e assumono una forma strana queste due montagne che hanno un colore diverso a me sembra di vederli i colori nei bianchi e neri di Placido e in fondo il cielo bianco un po' più bianco anche quello e la foto si intitola cometa ma è una roba ma è una roba meravigliosa cioè è parte della creazione veramente avrete capito quindi a maggior ragione adesso quanto e qual è stato il nostro orgoglio noi facciamo gli editori quindi lavoriamo sui libri e per i libri e lavoriamo a farli non siamo così bravi a raccontarli vorrei avere Beppi De Marsi che racconta ognuno di questi libri voglio dire però il sentimento che abbiamo provato a fare questo libro è proprio quello che Beppi ci ha fatto rivivere oggi quindi grazie ancora per questo ritratto che ci ha restituito un Placido Barbieri straordinario è quello che mi aspettavo è quello che volevo e grazie ancora soprattutto alla famiglia a Claudio e a Fernanda che ho conosciuto oggi mentre Elena e Claudio mi hanno accompagnato in questa avventura del fare il libro e a Flavio che non so Silvio che non so se ecco ecco grazie grazie a tutti voi per averci dato questo libro da fare e perché ringrazio sempre questi questi in questo caso gli eredi degli autori e gli autori che ci affidano i libri perché in un'epoca di tanta tanta cialtroneria non è facile credere a chi ti dice voglio fare un bel libro e noi penso che dopo 50 e rotti titoli cominciamo a dimostrare alle persone che ci conoscono che i libri li amiamo e anche un pochettino li sappiamo fare e quindi ringrazio molto questi primi autori che ci hanno affidato le loro opere perché hanno avuto fiducia nel nostro lavoro e questo è il motivo per il quale li ritengo parte di un progetto che è un progetto comune ed è un progetto culturale ed è quello che vogliamo continuare a fare l'ultima cosa la devo assolutamente dire oltre a fare con questo libro tutto quello che ha detto Beppi annusatelo davvero questo libro ha un profumo straordinario è il profumo di carta quindi signor sindaco mi permetta di donarle la copia di questo libro e di passarle la parola per un suo saluto finale è sinceramente difficile aggiungere parole sensate o quantomeno di senso compiuto dopo gli interventi di Giovanna di Elena Barbieri ma del maestro Beppe De Marzi grazie grazie sinceramente anche da parte mia e anche di Beppe Cantele è difficile aggiungere qualcosa io credo che la miglior sintesi della giornata sia quella di prendere il libro di non rumare ma di sfogliare con attenzione apprezzando tutti quanti i particolari di ciascuna delle foto annusandoli a questo punto anche quindi io ricordo c'erano i libri della Mursia che profumavano però questo a quanto pare è una sorta di riproposizione no profumo meraviglioso bene grazie del dono grazie sinceramente mi sembra che il pubblico si sia assolutamente convinto di quanto è stato detto oggi che non ci siano domande da parte di nessuno confermo sì no siete tutti bene questo fa piacere direi di chiamare quindi l'assessore della cultura che ha un dono particolare Francesco per le due signore per Giovanna e per Elena un omaggio floreale grazie non so se si senta ancora e poi come la tradizione di profumo di carta abbiamo anche il dono dell'Elisir di China della farmacia Zanini questo è buono questo è buono e profuma grazie e poi di Bep di Cantele di Ronzani Editore la nuova edizione del libro di Pino Sbalchiero mio predecessore di tanti anni fa di cui l'anno scorso abbiamo celebrato commemorato i dieci anni della scomparsa i novant'anni della nascita c'era una volta un'isola con il glossario del contatto isolano questo se posso permettermi a proposito di di Aletti il contatto il glossario del contatto isolano è fenomenale bene io non mi resta che ringraziarvi a nome dell'amministrazione comunale a nome mia particolare e invitarvi a partecipare ai prossimi incontri della settimana prossima il lunedì martedì mercoledì giovedì con gli ultimi quattro incontri di questa quarta edizione Profumo di Carta grazie a tutti